Buongiorno ragazzi, episodio 87, ore 14.54, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Allora, prima di iniziare vi chiedo, se non l'avete già ascoltato, di andare a sentire l'episodio 48, il poliziotto al distributore, perché l'argomento di oggi si aggancerà a quello, ecco, quindi non lo riprenderò, andate ad ascoltarlo e da quello poi partiamo a riflettere su quello che mi è successo ieri mattina. Cosa è successo? In pratica ho dovuto rinnovare la carta d'identità perché mi era scaduta a inizio settembre, quindi a metà agosto, fine agosto ho preso appuntamento, fatta l'edità il primo slot libero era questa settimana che sono in ferie, ho detto, perfetto, lo prendo questa settimana e ottimo. E l'ho preso, tra l'altro, non nel mio comune di residenza, ma nel comune nel quale lavoro, che è a 20 minuti di strada. Quindi ho detto, vabbè, lo prendo là, così sono più comodo nel portare la bimba e poi devo fare altri affari. Quindi, vabbè, lo prendo là, tanto il sistema mi dice, puoi farlo, lo faccio. Quindi ho detto, voglio farlo nell'altro comune. Il sistema mi ha detto, va bene, dimmi in che comune, ho messo il comune e mi fa, perfetto, però quando chiedi di fargli un altro comune, devi aspettarti una mail di conferma per l'appuntamento. Se non ricevi la mail, sai che non puoi, non puoi avere l'appuntamento perché appunto ci sono dei problemi nell'appuntamento. Ok, vabbè, perfetto, aspetto la mail, due settimane fa mi arriva la mail di conferma, mi dice, guarda, puoi venire a fare la carta identità nel comune data scelto e quindi ti aspettiamo. Tutto generato in automatico dal sistema e quindi ho detto, buon, perfetto. Ieri mattina vado, mi siedo alla scrivania della responsabile dell'impiegata e guardo un po' i miei dati, e mi fa, ma non ti trovo. E gli ho detto, eh no, sì, non risiedo qua. E lei mi fa, ah, eh no, ma dove risiedi? E gli ho detto, risiedo nel mio comune. Eh no, beh, ma allora devi andare a fartelo nel tuo comune. E gli ho detto, no, scusa, ho preso appuntamento per farlo qua perché sono più comodo e quindi sono venuto qua. E lei mi fa, eh no, ma tu non puoi fare così. Cioè adesso io devo fare richieste cartacee, devo andare a prendermi i tuoi dati, devo fare questo, devo fare quell'altro. Non esiste che io ti faccia questa cosa se tu puoi andare a fare nel tuo comune di residenza. Gli ho detto, sì, ma a me non è un problema. Nel senso, ho chiesto l'appuntamento qua, mi avete detto, tutto bene, mi è arrivata la mail di conferma. Mi fa, eh no, fammi vedere la mail di conferma. Beh, gli ho tirato fuori, ho fatto vedere la mail e mi fa, eh ma questo è generato dal sistema. E io ho detto, eh beh sì, per forza. Nel senso, cosa vuol dire? E lei mi fa, no, no, non te la posso fare perché tu risiedi a 20 minuti da qua, quindi ti prendi un giorno di ferie, ti prendi appunto un giorno, vai a 20 minuti da qua, te la fai fare nel tuo comune di residenza. Io non te la faccio perché se tu risiedessi a Roma sarebbe un conto, ma se tu, visto che tu risiedi qua a 20 minuti, non te la faccio e ciao, fotiti in sostanza. Al che non ho, non so, non ho capito se non potesse farla o non volesse farla, se la procedura fosse lunga, più di due giorni, cioè se doveva prepararsi i dati prima, eccetera, eccetera. In realtà non è questo lo scopo dell'episodio. Però io, memore dell'episodio del poliziotto, ho detto, vabbè, nel senso, me ne fotto, non me lo fa, me ne vado da un'altra parte. Me lo faccio fare nel mio comune di residenza, dove tra l'altro lei mi fa, è un comune piccolino, quindi basta che chiami, te la fanno subito. Oggi ho chiamato, il primo appuntamento era a metà dicembre, quindi subito proprio no. E niente, e poi mi sono andato via, mi sono messo a pensare, ho detto, cavoli, ma ha senso fregarsene, nel senso, perdere tempo in discutere di queste cose con delle persone che non vogliono risolvere, perché alla fine lei, boh, aveva chiuso tutto, ho detto, boh, questi sono i tuoi documenti, io non ti faccio la carta di identità. Ha torto ragione, non mi interessa. Però ho pensato, accidenti, io non sarò l'unico pretenzioso che avendo la possibilità di scegliere in quale comune andare a farsi la carta di identità, sceglierà un altro comune perché è più comodo. Quindi è una situazione che ricapiterà ad altre persone e non è giusto che altre persone ricevano questo trattamento, diciamo. Perché alla fine io ho perso una mattinata, in cui ho potuto fare tutt'altro per andare a, in sostanza, prendermi insulti passando per viziato che non vuole farselo in comune di residenza. E quindi il problema di fondo, in realtà, quello che mi sono posto io è che c'è una linea abbastanza sottile tra il fottersene a buon fine e il fregarsene, diciamo, a cattivo fine. Questo probabilmente è un disinteressarsene a cattivo fine perché, perché se io avessi quantomeno detto, ok, perfetto, ci sta, però fammi parlare con un responsabile perché voglio chiarire questa cosa. È giusto far sapere al sistema che c'è un errore. Cioè, io non posso ricevere la mail di conferma, poi arrivo e tu mi dici che non posso farla perché non è voglia, non può e non mi interessa. Quindi, in realtà, quello che, nella quale sono combattuto è fino a che punto vale sbattersi per fare, per risolvere una situazione e fino a che punto bisogna lasciarla andare perché veramente è una linea sottilissima e soprattutto si rischia di passare per rompicoglioni. Cioè, se avessi detto, voglio parlare con il responsabile, subito, pronti via, mi immagino campanello d'allarme, sto qua è un rompicoglioni perché vuole fare, vuole fare il fenomeno, no? Invece non è una questione di fare il fenomeno o non fare il fenomeno, è una questione di, 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 c'è un problema, bisogna risolverlo perché altrimenti, appunto, ci ricascano altre persone e si va avanti così finché tutti dicono, eh vabbè, non si risolve niente e arriva qualcuno che dice, no beh, risolviamolo perché, perché è un problema. La cosa difficile, che a me riesce, non riesce assolutamente, è arrivare a qualsiasi incontro, appuntamento o situazione nella quale tutto può andar bene e quindi, buon, perfetto. tutto può andar male, cioè tutto può andar male, le cose non possono andare come ci si aspetta e allora si può avere due scelte, una è lasciare andare perché tanto al fine come è successo nell'episodio col poliziotto non cambia assolutamente nulla e si perde solo del tempo. Un altro è impuntarsi per cambiare le cose perché effettivamente ha senso farlo e quello che è successo ieri all'appuntamento della, con la carta di identità. Il problema è che questa cosa si decide in secondi, neanche in minuti, perché tu sei la seduto, o ti alzi o inizi a rompere i coglioni, però se inizi a rompere i coglioni fai già un, una puntata, diciamo, verso, verso il voler risolvere la situazione, quindi già, se inizi poi devi portare avanti la tua causa finché non si risolve e appunto può essere veramente fastidioso. Non ho purtroppo l'abilità del dire, del decidere in pochi secondi cosa sia giusto fare, cosa sia sbagliato fare e questo un po' mi secca, però penso che non sia, non sia abilità di tutti, forse anche di nessuno, scegliere cosa sia giusto o no. Però appunto come, come era giusto condividere quella dell'episodio del poliziotto, era giusto condividere anche questa perché magari appunto si, si crea una mentalità troppo permissiva nella quale tu dici, vabbè, a me non cambia, effettivamente io posso chiedere un permesso oggi, lo posso chiedere fra un mese, non è quello il problema, però anche memore di quello che succedeva quando ero un accettatore in un'officina che arrivava gente proprio disperata perché aveva bisogno della macchina per andare a lavoro, però non poteva prendersi più di mezz'ora di permesso perché altrimenti non gliela lasciavano, se no rischiavano al posto perché avevano il contratto di scadenza eccetera eccetera, far perdere tempo a quelle persone lì effettivamente è rognoso, quindi è una cosa che potrei, che potrei io o chiunque altro risolvere, però appunto ho un po' di confusione in testa riguardo, volevo appunto parlarne per cercare di chiarirmela perché non è tutto o bianco o nero, ci sono molte sfumature e alla volta magari quelle che per uno sembrano rompi coglioni, per un altro hanno sfumatura che è basata sulle sue esperienze e di conseguenza si impunta per cercare di risolvere, ad esempio la prossima volta se dovesse capitarmi qualcosa del genere cercherei di essere un po' più sicuro di me nel dire no guarda risolviamo, chiariamo questa cosa qua adesso perché è giusto farlo. E a riguardo vorrei appunto sapere anche la vostra opinione perché come mi è arrivata una mail per l'episodio del poliziotto mi piacerebbe sapere anche se la vostra opinione riguardo a questo episodio, se a voi è mai successo di impuntarvi in qualcosa perché magari a me non cambiava però sapevate che per il futuro per altre persone avrebbe potuto, il modificare della procedura avrebbe potuto semplificare la vita eccetera eccetera. Se avete capito il nocciolo dell'episodio che quando è iniziato mi era chiaro, durante la registrazione mi è un po' scappato di mano forse, però tanta è insomma la linea sottile tra il lasciare andare e rompere le palle. Ecco questo sarà il titolo dell'episodio. Detto questo un altro ascoltatore mi ha scritto riguardo all'episodio di ieri sulle piccole somme e mi dispiace ancora ulteriormente che il messaggio che lasciamo passare era che le piccole somme non contassero, che non fossero importanti al fine del raggiungimento di un cuscinetto di sicurezza. Sono assolutamente fondamentali, però se si vuole diventare milionari, che è quello che sto facendo io, diciamo non sono risolutive. Sono utili perché ti creano un cuscinetto sul quale ti potrei appoggiare per prendere lo slancio e guadagnare somme ben più alte, però non risolvono il problema. Ecco se uno vuole diventare milionario in pochi anni non lo fa accantonando somme. Fermo restando che accantonare somme è fondamentale. Quindi questa è una precisazione che faccio nuovamente riguardo a quello che mi ha scritto un ascoltatore. Detto questo ragazzi ci sentiamo domani e domani. Lunedì finalmente sono finite le mie ferie quindi riprendiamo a registrare la mattina con contenuti più precisi probabilmente. Buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao ciao!